Venerdì 5 di dicembre, un buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione della nostra rassegna stampa. Come sempre quotidiani ma anche tutti gli aggiornamenti dal web in questa giornata in cui si parla ancora e tanto del caso che sta sconvolgendo Roma, l'inchiesta che ha portato a 37 arresti e 100 indagati. L'operazione Mondo di Mezzo, sono ancora in corso altri accertamenti e ora dopo ora escono ulteriori dettagli sulla vicenda che creano l'immagine di una organizzazione criminale nella capitale complessa e ben articolata. Oltre le notizie di cronaca che riguardano la città eterna si parla anche di Europa con l'operazione di Draghi e il Via Libera, la legge per il rientro dei capitali ed ancora purtroppo della vicenda che riguarda il piccolo Loris. Ancora in corso le indagini, gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quei dettagli che ancora rimangono oscuri. Quindi la mamma è stata già sentita, è già stata ascoltata dagli inquirenti, ora però si procede in maniera diversa, si è cercato anche di ripercorrere il tragitto di quella giornata. Ma andiamo a vedere come i quotidiani affrontano tutte queste notizie partendo dalla Repubblica, in apertura troviamo appunto il caso Mondo di Mezzo ed il caso dell'Europa con la svolta di Draghi. Mafia il sacco di Roma, così la banda nera si spartiva, gli appalti milionari dell'assistenza agli immigrati, il pool anticorruzione per la capitale, Zingaretti blocca le gare e Marino sottoscorta. Quello che per l'Italia è emergenza, per mafia capitale e business, in sei mesi famo doppietta. Questo è il virgolettato che apparteneva al guercio con cui lui prometteva agli imprenditori un grande business. Il momento qui nell'immagine che ha fatto il Giro d'Italia è non solo dell'arresto di Massimo Carminati, è avvenuto martedì scorso, nelle immagini appunto i carabinieri del ROS che fermano in una strada il boss Massimo Carminati a bordo della sua Smart e eseguono l'arresto. Su mafia capitale, scrive Roberto Saviano, sappiamo tutto. Abbiamo letto le cronache dell'operazione condotta dai ROS del generale Parente della Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone. Abbiamo letto l'ordinanza del GIP Flavia Costantini, ma non so se è chiaro a tutti cosa sia accaduto a Roma. Questo appunto è un cenno a quanto riportato da Roberto Saviano all'interno della Repubblica. E ancora andando avanti, come vi dicevo, si parla anche di Europa su questa prima pagina con la svolta di Draghi. Da gennaio gli acquisti di Bond, lo scontro con i tedeschi nell'ABC. La decisione sarà a maggioranza e poi c'è anche il rientro di capitali con il via libera dato alla legge che regola quest'operazione. Il treno di Mario Draghi è partito e difficilmente si fermerà prima di arrivare a destinazione. Non lo farà neanche se qualcuno a bordo continua a contestare il macchinista. È stata tutt'altro che semplice la riunione di ieri del Consiglio Direttivo della BCE. Secondo alcuni, secondo altri, è di nuovo deflagrata in pieno la contrapposizione tra lo stesso Draghi, presidente della BCE, e quello della Bundesbank-Weidmann. Sull'esito però ognuno dei banchieri centrali è ormai a pochi dubbi. L'acquisto su scala massiccia dei titoli di Stato da parte della BCE appare sempre più inevitabile. E quindi appare l'unica strada percorribile in questo frangente. Andando avanti, il Quirinale e il metodo di Renzi deciderà l'Assemblea del Partito Democratico o dai grandi elettori l'identikit del presidente. C'è un piano o un metodo, se si vuole, che Renzi ha in mente di adottare quando arriverà il giorno X, il giorno delle dimissioni del capo dello Stato. Fino ad allora il capo del governo non ha intenzione di dire una parola a nessuno. Quel giorno però si avvicina. E poi, come vi dicevo in apertura, il caso del piccolo Loris, strangolato con un filo elettrico, è stata interrogata la madre e ancora in piedi molte incongruenze. C'è anche l'America e l'Europa alla battaglia del Parmigiano, un migliore di firme europee contro il TTIP, il trattato commerciale di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea. Secondo gli oppositori, l'eventuale accordo minaccerebbe i diritti dei lavoratori e gli standard ambientali e alimentari del vecchio continente. Poi ancora comprarsi l'immortalità, l'ultimo privilegio dei superricchi, antica come l'epopea di Gilgamesh, il re babilonese che strinse tra le mani la pianticella dell'immortalità soltanto per farsela rubare da un serpente. L'illusione che potere e ricchezza possano proteggere i grandi della terra dal settimo sigillo torna ad ogni generazione. Quindi ricorsi storici come si suol dire. Lasciamo questa prima pagina, andiamo su quella del Corriere della Sera, anche qui l'apertura dedicata all'Europa che rimane ferma, ma c'è però la spinta di Draghi con la banca centrale che si divide, ma annuncia l'intenzione di comprare dal 2015 anche i titoli di Stato. Tagliate poi le stime di crescita e passa la legge per il rientro dei capitali. Il governo ha fatto sapere non è un condono. E poi ancora Padoan, l'Italia decisiva nella svolta dell'Unione Europea sul lavoro e l'incontro Renzi-Merkel con il tetto del 3% da ripensare e da rivisitare. Sempre all'estero un Putin colpito dal petrolio risfodere alle armi del Novecento. Ci sono tutti i toni, le suggestioni, i colori e perfino gli stilemi della guerra fredda. Nel discorso di Vladimir Putin sullo Stato della Federazione Russa parte per il tutto la riscoperta del concetto di containment, contenimento che l'Occidente avrebbe perseguito per decenni se non per secoli, ogni qualvolta ha sentito che la Russia stesse, diventando troppo forte. Nella narrazione del leader del Cremlino, l'annessione della Crimea, da lui definita storico ricongiungimento, e gli eventi poi in Ucraina, il colpo di Stato e i Pse di Exit, sono stati soltanto una scusa per gli Stati Uniti e i loro alleati. Se non fossero successi avrebbero tirato fuori un altro pretesto. Quindi questa è l'opinione di Vladimir Putin. L'avrete riconosciuta sicuramente, è Monica Bellucci, con il suo record essere Bond Girl a 50 anni. E lei con altre due, una francese 20 anni più giovane, la Bond Girl del nuovo film della saga, dedicata all'agente secreto 007, il numero 24, dal titolo Spectre. Bond sarà interpretato ancora da Daniel Craig e diretto da Sam Mendes. Questa è la novità per Monica Bellucci. Ed ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Roma, la confessione, così preparavo le buste per i politici a parlare. È la cassiera del braccio destro di Carminati, la cassiera della banda dalla cella del carcere. Nadia Cerrito parla e conferma le direzioni, scusate, le dazioni in nero a politici e funzionari di Roma coinvolti nell'inchiesta su Mafia Capitale. La segretaria di Salvatore Buzzi ammette di essere stata proprio lei a preparare le buste con i contanti. Spiega di averlo fatto per non essere licenziata, ma ad accusarla c'è il libro nero sequestrato nel suo appartamento con l'elenco delle somme pagate accanto all'iniziale di chi le ha percepite. E poi, ancora, un comune da zerare, il PDC di Pulisca, è arrivata per tutti l'ora delle scuse. E inoltre, il sindaco alieno, un salvagente per i suoi nemici, Marino, ed un partito che è a pezzi. Ancora, in taglio basso, anche Google rispetti le nostre regole, Buttarelli, il garante europeo su trasparenza e privacy, i colossi degli Stati Uniti, dovranno adeguarsi. Google, un posto sicuro per i dati degli utenti? Non sono d'accordo, credo che i nostri dati saranno sempre più nelle nuvole, ma i nostri diritti devono stare con i piedi per terra, non devono essere virtuali. C'è ancora poca trasparenza sull'uso delle informazioni personali, ne ha convinto il magistrato Giovanni Buttarelli, 57 anni, nuovo garante europeo della protezione dei dati personali. Il giallo del laccio per strangolare il piccolo Loris, anche qui ritroviamo la notizia del giallo sul laccio, una fascetta di plastica da elettricista usato per strangolare il piccolo di 8 anni, trovato morto a Santa Croce e Camerina, in provincia di Ragusa. Si stanno facendo avanti nuovi ulteriori sospetti sulla mamma del piccolo. E ritroviamo la stessa notizia anche sulla prima pagina del messaggero, con una foto che ritrae proprio la donna sorretta dal marito all'uscita della questura di Ragusa. Il titolo Loris strangolato con un laccio, forse in casa la madre nuovamente sotto torchio in questura. Queste sono le ultime novità che arrivano da Ragusa su questo giallo che non ha ancora una soluzione. Su questa notizia mi fermo un istante per una breve pausa, poi però torniamo con le altre prime pagine dai quotidiani e le altre notizie dal web. A tra poco.